Siamo signori ancora sul bellissimo programma di C'è posta per te, un'altra storia, una storia dove c'è un certo Antonio che cerca i propri figli, questo in evidenza. Ma nel programma di sabato sera condotto da Maria De Filippi c'è un'altra storia difficile, familiare, con un padre che vuole riallacciare così il rapporto con i figli, dopo che per un sacco di tempo non ci sono stati contatti, cioè nel senso lui non sapeva cosa facessero loro, loro non sapevano cosa facesse lui e quindi come sempre in studio si registrano grandi tensioni, grandi emozioni particolari con le persone che si mettono a nudo perché è questo poi alla fine il programma. Di fronte alle telecamere quindi averci anche un certo coraggio di affrontare tutte le telecamere perché sappiamo poi che, cioè sappiamo chi ci avva al programma sa che poi lo vedranno tutti quanti, quindi è anche un atto di coraggio questo. E allora si spera sempre che poi ci sia una riconciliazione per quanto riguarda queste storie, ma non sempre sappiamo che è così. È successo ad esempio la settimana scorsa, quando il giovane Leonardo aveva chiesto scusa al nonno Alberto dopo averlo insultato pesantemente. Cornuto, da quando non c'è più nonna, sei diventato come un topo che non esce più di casa. Una frase detta in un momento di nervosismo dopo una lite con il papà. Dopo le scuse e la promessa di non fare più cose del genere il ragazzo ha potuto riabbracciare il nonno con il quale ha sempre avuto un rapporto speciale. Ma ora torniamo ad Antonio e ai suoi figli. Sono trascorsi ben 17 anni da quando Antonio non vede più i suoi figli Pasquale e Angela. L'uomo si è risposato con Carmela e i due hanno un figlio che si chiama Sabato. Dopo la separazione dalla prima moglie Antonio ha tentato di mantenere i rapporti con i figli, all'epoca adolescenti. Poi, però, con il passare del tempo i contatti sono diventati sempre più rari e alla fine l'uomo ha deciso di rompere il legame pensando che i figli lo cercassero solo per i soldi. Dopo sette anni Carmela ha capito che il marito non stava bene e ha invitato Antonio a cercare di nuovo i suoi figli. Pasquale e Angela, però, a quel punto non ne hanno voluto sapere niente. Così Antonio e Carmela, affiacanti dal figlio Sabato che voleva conoscere i suoi fratelli, hanno chiamato Maria De Filippi. Nella puntata di C'è posta per te va in scena il difficile confronto coi figli che affermano che il dolore è ancora troppo grande. Antonio e Carmela, così, lasciano lo studio. Solo a quel punto Pasquale e Angela decidono di aprire la busta per poter conoscere il loro fratello sabato. Inoltre affermano che con il tempo daranno un'altra chance anche al padre. Un epilogo quindi non del tutto positivo, ma che lascia aperta la porta della speranza. Ancora una volta Maria è riuscita a gettare un seme che toccherà ai protagonisti della storia far crescere per ritrovare la perduta serenità familiare.